E i limiti esistono solo per essere superati, solo che ripeto in questa tappa non puoi resistere senza ricompense e le ricompense non te le dà nessuno, non te le dà il genitore che dice vabbè ma è inutile che ti stressi così e poi con i genitori sapete c'è anche il problema di solito difficile, mio padre è riuscito a realizzare fin qui che diritto di andare oltre e tutte queste varie cose, oppure sono i crediti da riscuotere, gli amici meno che mai, gli amici non ti aiutano, non ti danno né aiuto né relax autentico ma mai. Quando cominciano a capire che li stai lasciando indietro, non so se qualcuno di voi ha mai avuto un figlio, prima di qualche suo amico avrà notato, le donne soprattutto, a un certo punto voi dite all'amica sai che sono incinta. L'amica coetanea si rallegra e dopo un mese non la frequenti più, no ha da fare, no non posso, guarda non posso e capisci che non c'è niente da fare, non ti supporta più, fino a che non rimani incinta anche lei. Allora hai cominciato a parlare, è del tutto fisiologico, è troppo duro in questa società essere lasciati indietro, tanti pensate, tantissimi i vostri conoscenti sono stupidi per solidarietà. Sono scemo perché sono anche loro così, se io fossi intelligente come sono loro si sentirebbero diversi, allora sono scemo anch'io. È brutto questo perché poi in questo corpo qua hai solo sta vita, poi a un certo punto lo molli e lì l'attimo dopo dici che pirla, milanese. Allora ci vuole, chi ti premia se non ti premiano gli amici? Il consorte? Consorte maschio a quel punto se lo stai lasciando indietro, per la mia poca esperienza che ho di consorti maschi, non è tremendo, non è che ti fa il tifo proprio il consorte maschio. La consorte femmina spesso fa un rapido calcolo e dice questo adesso chissà che ambienti va a frequentare, magari vede in te il fratello con cui ha combattuto per i primi vent'anni della sua vita. Oh, non ti passa nessuno un aiuto a quel punto, quando cominci a salire più in alto e allora devi pensarci da solo. Buon modo di pensarci. Guardate che su questo punto tanti mollano, non ce la posso fare, ma fisicamente non ce la puoi fare, non ce la puoi fare. C'è un problema di endorfine. Cioè se tu sali, fai fatica, fai fatica, fai fatica, fai fatica, fai fatica, fai fatica, il corpo dici guarda no. Ti vengono ammorroidi, ti viene l'ulcera, ti cade, cioè qualcosa ti capita, perché il corpo dice no basta, non posso, cioè stress, stress, però qui, oh, oh. Allora devi dargli un po' di endorfine. Come si fa? La tecnica consigliata, per esempio, da Jürgen Wolf è bellissima, che si chiama in inglese la loyalty card, la carta fedeltà. Bella la carta fedeltà. La carta fedeltà sono i punti, no? Chi è esperto di essere lunga sa cos'è la carta fedeltà. Ora, sono delle cartine, tu metti dei bolli, alla fine ti danno una tovaglia. Giusto? Finché erano i bicchieri era emozionante, a me le tovaglie non sono mai piaciute, per cui adesso vedo gli altri che fanno i punti, mi dico no, non mi interessa, aspetto che tieni fuori qualcosa di più intelligente, perché la tovaglia... Allora, si fa lo stesso con te. In questo percorso tu stabilisci dei traguardi intermedi. Piccoli, uno a settimana per esempio. Capito? Uno a settimana. Ci vuole il premio. Qui ci vuole il premio. Senza premio, ripeto, tu non ce la puoi fare. Il premio non deve essere una stupidata. Detto latino, che vi consiglio di usare perché questo fa una scena pazzesca. Allora, res severa verum gaudium. Che vuol dire il vero divertimento è una cosa seria. Se tu come vero divertimento fai un'occupazione oziosa, perdi tempo, stai sbagliando, vuol dire che ti valuti troppo poco. Il vero divertimento, il vero premio è un impegno gigantesco. Devi per forza concentrarti e dedicarti a attenzione. E si fa così. Tu scegli un premio per te. Quando hai raggiunto questo particolare risultato intermedio, tu scegli un premio per te da consegnarti una volta raggiunto quel risultato. Il premio è segreto. Il premio non deve sapere nessuno cos'è. Deve essere qualcosa che hai sempre desiderato. O che desideri tanto in questo periodo. Segreto perché? Perché deve essere totalmente libero. Questa idea ho notato che fa paura a tanti. Perché primo io non so cosa voglio di piacevole. So cosa voglio di obiettivo. Ma è difficile dire cosa voglio di veramente piacevole. Se poi dico qualcosa che posso raccontare ad altri, va bene. Ma se dico qualcosa di segreto, che nessuno saprà mai, la mia libertà diventa gigantesca. Questo mi intimidisce. Invece provate. Sarà sempre segreto. Nessuno lo saprà prima, nessuno lo saprà durante, nessuno lo saprà poi. Poi da pensare a qualcosa del genere. Anche questo non piace all'autos. Perché così sei troppo generoso con te stesso, hai troppo affetto verso di te, sei troppo maestoso addirittura con te stesso. Maestoso. Esempi di premi. A Roma una persona dice, uno dei premi, questo era un feedback del corso, uno dei premi che ho scelto dopo lunga fatica, finalmente l'ho trovato, ed è stato bellissimo. Allora, io non ho mai visto il mare di mattina, in marzo, in primavera. Per cui ho scelto un giorno, ho preso una mattina libera, senza dire niente a nessuno, sono andato a Ostia, ho magnato in un ristorantino che c'è lì, e sono tornato per le tre a Roma. È stata una delle mattine più belle della mia vita. Da solo al mare, in marzo, a guardare le onde, a sentire questa cosa, e ho pensato, non l'avrei fatto mai in tutta la vita. Non l'avrei mai saputo con me. Che bellezza, che silenzio, che tranquillità c'è. E lì in quel momento mi sentivo a presente un nobile, non so, un conte, qualcosa di simile. È difficile da spiegare, dice, ma io mi sentivo una specie di principe. Ma non è che mi dovevo sforzare per sentirmi così. Io mi stavo comportando in modo principesco. Capite com'è? Un altro dice, ah, come premio invece io ho trovato ritornare a fare un giro nel quartiere dove sono nato e in cui non vado da trent'anni. ma non un giro di cinque minuti. Ci sto un'oretta, due. Vedo le cose, entro nei cortili. Questo è più malinconico. Ma non è brutto, eh? Non è mica brutto. Ecco, cominci a scegliere. E naturalmente ti accorgi che non ti vengono in mente. Perché tu adesso sei quello che non sa premiarsi. Adesso alle 18.10, alle 18.20 di domenica 30 settembre tu sei quello che non sa premiarsi. Ripaliamone tra venti giorni. E guardate come cambia la persona allo specchio quando la incontrate al mattino. E guardate come cambia il guardaroba. Guardate come cambiano le amicizie, come cambiano i progetti. e guardate come cambia il tai